Salve a tutti amici e ben ritrovati, sono i vostri Miniterri ed eccoci qui per un episodio di eFootball 225. Non c'è più la scritta, non c'è più la scritta, non c'è più oggi, iniziamo la nostra nuova avventura o andiamo a provare per esattezza il prodotto di Konami. Ok piccolo cambio di camera, il gioco ha avuto un aggiornamento che ha avuto delle idee molto interessanti, una su tutte si entra alla fine dei contratti, infatti non sono più contratti quanto ho potuto leggere e quindi molti giocatori che erano il vostro sesso ma a cui non avete rinnovato il contratto li potrete riavere indietro e quindi questo è una cosa molto molto buona. Oltre a questo sarà un momento più importante al gioco, con gli strati di tripping un po' più diversificati da quello che era prima e annullare tutte queste nuovetà tramite il gioco. Oltre anche a questi aggiornamenti, il fatto che eFootball non sembrava più annuale ma sarà appunto, c'è stato detto eFootball, mostra come la sua idea sia appunto quello di creare un gioco online, si generava con le squadre e basta. A me è quello che mi spiace che non ci sia come dico sempre una modalità offline che è il campeonato master, secondo me se farebbe questa mossa dovrebbe più di tutto una diversità, il gioco avrebbe sia una modalità online che è quella principale ma anche una modalità offline che sarebbe il campeonato master per i nostalici come me. O anche per chi vorrebbe solo giocare a PS, provando le scuole quelle classiche, non provare una squadra per forza comprare, diciamo, i giocatori, diciamo, la propria squadra personalizzata, mentre una cosa così a parer mio. Altra cosa appunto, altra cosa diversità, magari per me dovrebbe essere il fatto che non ha diritto in molti campionati, ma secondo me se fai un campeonato master, un pacchetto che tu lo vuoi a vendere a 10 euro, esempio, 10 euro, se vuoi proprio essere, vuoi guagnarci su questo, vuoi che alla fine è sempre un lavoro che richiede un certo modo di operare per la creazione, per appunto aggiungere questa modalità, magari ti fa pagare 10 euro la prima botta e poi basta, rimane così. E tu hai quindi un gioco online in cui aggiungi questa add-on, questo dire simile così, che è il campeonato master. Ah purtroppo ragazzi, devo parlare con Krami. Comunque, tante cose che ci arrivano, questa cosa bella del gioco è che ogni volta ti regala ai giocatori. E una cosa bella è che invece di i football, il vecchio PES rispetto a FIFA, è che non c'è un meta, non c'è un giocatore che è quello vincente, quindi tutti hanno sempre i stessi giocatori, lo stesso giocatore, molti hanno ente squadre con i 11 quasi identici. Invece no, qui non c'è un meta, quindi tu puoi fare la scuola che vuoi tu, in piena libertà, in piena autonomia, senza dover per forza avere il giocatore perfetto per questo gioco. Ci imprega tu, ti crei i tuoi giocatori, ti crei la tua scuola con chi vuoi avere, ecco la scuola, in modo come tu giochi, funziona. Vabbè, comunque, uh, l'andosinuisce la tua squadra, oh, l'Obert, le Roassane, i miei preferiti, la Dio Assane. Vabbè, io ho anche qui lo start-up, vediamo un po', c'è il pass partito, ok, questo è solo dei miei lamenti, devo dire, sul menu, molto più diretto. Dammi l'accordo al buio con il Barcelona. E avrei anche un po' questi premi che ci ha sloccato, appena entrati nel gioco, dopo tanto tempo, coincidera, perché cosa per il gioco che ti va a premiare, notte che tu entri nel gioco, cioè ti invoglia a provare. Allora, c'è automatico a no, ma, se qui succeda a questo giocatore, qual è il problema? Ce la posso mettere qui? Non dimmi che non c'è più. Perché, in teoria, dovrebbe aver sbloccato tantissima roba. C'è anche un po' diverso, vediamo anche adesso delle carte, interessante. Vediamo un po' delle riserve, eccolo qui, è tornato. Roberto Carlos, mamma mia, che giocatore. Mentre le sottoscete per un momento, andiamo a togliere il di Marco, no, ma che mi è simpatico. E il masso che andreva. Andiamo a togliere questo l'Obertoschi, che magari prendiamo altro migliore. E eccolo qui, Roberto Carlos. Non riesco a congiungere, perché Mohamed Ousmane si ha... Ah, questo è congiunto di nuovo, si ha cambiato la carta, è possibile. Siamo un poco... No, cioè non mi dà... Ah, squalificato. Ah, solo perché è squalificato, ok, vabbè, non ci interessa. Questa cosa non ci interessa. Molto a Robertino Carlos, mi sa che c'è un altro giocatore, che deve ritornare alla corte di Mr. Terris. Messi, no. Zirkze, no. Che è andato qui al Manchester. C'è Sanè, Marco Sturam e il nuovo Lewandowski. No, ecco, c'è di quota da quattro. Oddio, ho tre Lewandowski. E il fantastico partito è che abbassano anche la camera, che è troppo in alto, ecco. Così già è un poco meglio. È un poco meglio, ma comunque questa è la mia squadra. Non un po' però prima di vedere di fare qualche acquisto con, appunto, i contratti, qua è buono, segna un po'. Qua i giocatori riuscivano a vincere. Allora, boost per essere di slot, boost che sono i nuovi booster, ma io l'avrei usato per una realizzazione booster. Ah, c'è quindi anche un booster. Vedo qui, 10 giocatori gratis e un po'. 10 giocatori gratis. Vedete che il football è diverso da FIFA. Lì, del shopper è forse, cioè qui si può shopper ovviamente e c'è possibilità di via dei giocatori di livello. Quando è lì, ah, il shopper tantissimo e c'è una bassissima possibilità di via dei giocatori forti. Oh, ma con i giocatori, mi era proprio 10. Ed ecco qui, un altro Messi, ormai Messi è proprio il volto dentro di questi football, che, no, insomma, è un progetto che non ci sia Ronaldo. Perché vedo l'altro con il suo FC? Poi, se c'è anche Ronaldo e Messi, se spingerebbe sul dualismo di questi giocatori, creando delle carte moment di loro due, è un'altra idea che sarebbe tanta roba. Però, intanto qui, Lionel Messi, 85, esterno destro alto, che quindi è un alla destra, in pratica. 85, Federico Valverde, Donnarumma, José María Ghevese, Michael Yazabal, Niccolò Fagioli, Moisei Caicedo, Andrew Roberts, Akanji e Eominson. Tanti peggiori, non so, ci devo dire che ho così, gratuiti, che devo fare a fare. Forse abbiamo qui, c'è anche il Palmeiras, il Barcelona, il Bayern. Oh, 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 che vedo qui. Cosa sto vedendo qui? Fammi vedere. Oddio, Baresi, Davids, ho già visto i giocatori che mi piacciono, Van Nist, Roil, guarda che è bello questo gioco, che ti dà anche delle carte leggendarie, per soltanto di vincerle, gratuitamente, cioè, senza spendere soldi, ma sono carte che, non si può soffrire, io non ho mai visto una carta di Davids, e per me è stata la scena, dell'aiuto degli anni 2000, con Lippi, che avevo visto Davids, mi ricordo, un grande giocatore, il Pitbull, che giocatore, poi Guti, mamma mia, che giocatori qui. Gap, con le altre carte, c'è di interessante, noi Simon, Rüdiger, Tors, anche delle belle carte, vediamo che hanno i simboli delle squadre, questo è un vero peccato, che diritto delle squadre, non ci sia, però la cosa buona è che, c'è, c'è il Chelsea, come ho già detto io, il Messe, il West Chelsea, com'è il nome del Chelsea? Non mi ricordo. Comunque abbiamo qui anche, Davids, Saman, wow, che baffo, Petit, Dixon, Mendieta, Pizarro, mamma mia, Pizarro che, che ricordi, York, Van Buiten, poi lui, Irwin, Zeroberto, da Zeroberto e Pizarro, sono giocatori che, mi ricordo, i più giochi di calcio che provavo, adoravo Pizarro e Zeroberto, abbiamo pure le giocatori straordinarie, mamma mia, Evair, Gaffia, un altro giocatore di, sono quelle che hanno le carte, proprio diverse, perché sono di, proprio di, di un'altra epoca, diciamo, tantissimi giocatori, che sono questi, io vado a provare, allora, un Vabbas, un Vanist, un Air Davies, ma anche un Guti, così, non frena, però, per me è la mia fortuna, no, ne ho quattro, mettiamo un po', ho quattro sfita, 18 Vanne, uno, ho il 5, no, il 5, no, un 4, il 6, 100, 5 volte, sì, attenzione, chi sei? Ugo Duro, è un nome della garanzia, così, di quella faccia che è meglio, 79, non mi interessa, però, 4 stelle, no, continuo, 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 prego, dimmi, dammi, un bar, che franco baresi, cavolo, vanissero, prego, FIFA, eh, FIFA, vabbè, i football barra PES, aiuto, aiuto, vedo, vedo anche un poco come sono lì, non so neanche come sono, diciamo, le stelle, come animazioni, ok, con la te, del Liverpool, se non ricordo mai, il Messi è red, 5 stelle, ma, non è il 5 stelle che vediamo noi, vediamo qualcun altro, altro di possibilità, proviamoci, dai, su, su, ti prego, ti prego, Davids, voglio Davids, mi, mi butto fuori, le luci sono belle, intrigante, attenzione, tanto col baleno, c'è possibilità? Che sia uno dei tanti forti? Eh, no, l'otto, Enzo, no, Enzo del Chelsea, The West London, no, questo non è il West Ham, ma, Enzo, Benazzo, è sì, ok, ma, non è Davids, dai, voglio Davids, voglio, dai, voglio Davids, lo dico, non c'è qui il Palermo, quindi, mi accorso solo la Juve, c'è poche luci, c'è pochi effetti al baleno, quindi, vediamo un po' cosa c'è, oh, il Gaia, dalla spagnola, il Valencia, sembra se ero io, sembra me lo squarra, e niente ragazzi, fallimento, fallimento, eh, ho spero tantissimo a trovarli, nel Palermo, abbiamo un po' che c'è tutto, abbiamo, solo quei cinque, adesso ci sono tutti, questi sono questi, per tanto fare, ed è, Estevegno, Murillo, ecco dell'Inter, Murillo, Weverton, Refn, Vega, Gustavo Gomez, vediamo anche le squadre, le carte, le sanzonano anche molto più belle, rispetto a quelle di FG, vediamo, ma la verità, non solo le belle di NBA 2K, ma insomma, non sono malvagi, devo dire, vediamo un po' che mi ha trovato, si saltano anche, beh, Rafa e Vega, il trequartista, che non si fa niente, ma troppo, eh, la grafica non dà, un livello alto, come la foto, cioè, non è di alto livello, se tu gli è il lavoro, qui per finire, dobbiamo vincere, Koundé, Ferran Torres, Balde, e Ansufati, giù sono quattro, allora, testo, esterno sinistro alto, esterno sinistro, esterno sinistro, tonturire le fasce, in pratica, io, sinceramente, ma un Koundé lo vorrei, mettere Koundé Roberto Carlos, delle fasce interessanti, sarebbero, vediamo, poi io salto qui, ovviamente, ecco, vedete, ora, dai, magari si porta meglio, si avvicina, lo vedo, il numero 10, Ansufati, Ansufati, il tendo è Barfelona, non è, il nuovo giocatore di Barcellona, Yamal, ma, ne sono fatte pure adesso, magari, se non vi ricordo, una carta, ne sono fatte, l'avevo, va bene, ultima, picca gratuita, abbiamo, quella del Bayern, in modo che abbiamo, Henry Kane, un pamercano, Goresca, e, Guerreiro, tutti i caldi e i salti, ma, attacco con i nostri giocatori, difesa, cioè, no, magari, non so, un Goresca, un Goresca non si fa male, come è giocato, sinceramente, non un po' che ci dà, i futbolai, Goresca, Goresca, senti il, il perro Goresca, del Bayern, guardalo, guardalo, lo senti, lo senti, è bianco, è di due, Goresca, no, Guerreiro, mi sembra, se lui, eh sì, Raffa, e c'ho là, Roberto Carlos, non posso, mettere, cioè, il problema è che Guerreiro, ma Roberto Carlos, se non, ho la che l'ho avuto, non posso, toglierti, ah, ho un contratto mirato, e, io se l'ho, vediamo un po', ho un contratto mirato, che non lo so, questo, dal gelico, questo è quella giapponese, quella turca, questa magica dribbler, Mandweke, Vitigno, qui ci sta, sei giovatori, eh, sì, ma chi sono, Dzeko, Rashica, e Badacci, mi sono quelle nuove, però forse non c'è, tipo, eh, Icardio, o Semen, mentre qui, c'è Mandweke, Vitigno, vediamo se c'è qualcosa, che ho dominato, ce l'ho? Non ho ancora dominato, però qui c'è già, Stones, e qui però, c'è direttamente, era bello provarci, questa cosa, vediamo un po', chi c'era qui, nel campo da turco, va, vediamo un po', i giocatori del pick, Romulo, Karluzinski, Tukku, Arashica, questa è forte, non so come si è, nel campo da turco, se non ho avuto, la che ci doveva avere, o qua, mamma mia, Bayer, Bayer Monken, mamma mia, accento, Kan, Uli Hoanev, Roy Makai, che giocatore lui, leggendario, me lo ricordavo, il Bayer, si è, Bayer Monken, questo è il bello, di questi fugos, che dà delle carte, bellissime, da vedere, fantazzi, gli autori che sono, un'idea be', esotici, ma non si sono, in pratica, gli autori che però, su FIFA non sono meta, o che neanche le fanno le carte, qui c'è De, Geico, Julie, oh che giocatore che era Julie, ma che ricordi, Rafinha, quasi dei classici, ok, cioè, Julie, su F-C24, o FIFA che sia, c'è mai stato? Penso che no, io sono giocatore, forse penso, i Nanshaw Settempo, penso gli IF, il Nande nazionale, c'è Ronaldo, Deca Rice, Di Marco così, che è fantastico, ah, è veramente diverso, c'era qui, Musial, Alvarez, ma che carte, non è quelle delle figurine, però fatte fighe, dai, Magaianes, Modic, Suaes, Artuoglu, Kaspersh, Michael, Ronaldo, Di Marco, Ferran Torres, e Declan Rice, chi si parla della carta di, di Lidz, quello che ha fatto, Pier, è bloccato anche, cioè, è giotto più giovane, la Juve ha fatto con il Champions, quindi, ci porrebbe essere, ci porrebbe essere, non so che altro, ma, so che la Juve non ha diritti, con questo gioco, e quindi, perché, allora, io un po' gli obiettivi, l'ho fatto, se vincevano, qualcos'altro, per cui carriera, e, battendo solo punti, momenti G, 15,000 GP, che si, sono bei soldi, non so comprare giocatori, ma, valeva, anche giocatori gratuito, così, che, è più durioso, la cosa, è più durioso, che si, voglio cambiare, allora, gioco bonus, anzi, questo sembra che c'è, quei rigori, attenzione, si spengono le luci, si alza una grafica, quanto strana e curiosa, ok, ecco, queste cose, sono belle, no, chi ho visto, se non lui, Castolo, l'attaccante, la squadra, le master league, quella classica, ok, una volta al giorno, un sole, c'è la direzione, è quella per calciare, più si tiene, più è molto più potenza, che scelta, adesco della precisione, premeremo, per attivare, disattivare, questo è di mita, e io provo la mita, mi ha detto lì, con Castolo, ed è il gol, cioè, già, vivete nella scuola, con la master di Castolo, Ximanes, vivete nella scuola lì, io, mi impazzirei, è la master league, con quel giocatore solo, mi impazzirei, perché no, perché no, oggetti in mille, ok, mille oggetti, vabbè, Frank Ribery, no, c'è anche Ribery, la voglio di sbloccare, non sarà fortissimo, la voglio di sbloccare, Ribery, per la sua parola di squadra, andiamo un po', che cerco i messaggi, vabbè, prossimo arrivo, sì, grazie mille, ricevi tutto, ricevi tutto, allora, in teoria, la mia squadra, la dovrei, cerca di migliorare, i giocatori, ne ho un dacolo, su 500, ok, andiamo un po', di far crescere, andare quello che vorrei utilizzare, in teoria, gli ultimi, vorrei utilizzare tutti, però, non, no, Roberto, cosa devo fare, vabbè, non posso, riesco a far crescere, questo messaggio, un po', quanto può essere boostato, allora, aumenta il livello, 10.000 punti esperienza, 9.000 punti esperienza, ok, facciamo così, la tua stazione applicata, che mi va bene, avvio allenamento, procedi, arriva al 625, e l'ionello messi, appunto, se andate, gli automattri, per la sinistra, la prestazione generale, si, faccio automattri, a fine, posso anche, vorrei anche cambiare, in caso io, e faccio un automatico, i giocatori, così che, ecco, già, l'ionello 6, contro palla, il ripping, che per la cartina, che è questa, oh, adottor, per non fare crescere, nemmeno, se per crescere, il buon, Robertino Carlos, vedete, qui ne ho anche le carte, che ho, o, dove giocano, Robertino Carlos, dove stai, beh, vedo, vedo, sembra che ce l'ho, ok, ma Robertino Carlos, che giocatore, aumenta livello, altra selezione, solo 8, ok, avviene l'allenamento, e, così, facciamo crescere, un po' questa carta, un po', 90, diventa, poi, esso ancora più forte, mi migliora, il compartimento, di me, offensivo, è che, che vi devo dire, poi, se mi resta fare, cos'altro, tra questo, vediamo, un poco, la camera visuale, la chebra, la te, palermo, è bellissimo, questo giocatore, ok, ok, 0 punti, allora, difesa, ne ho 4, forze, arti inferiori, mira velocità, pensa tiro, ci sta tutto, destrezza, non lascia destrezza, va bene così, va bene così, c'è qualcosa, che posso fare, perché io esco sempre, ma c'è qualcosa, che potrebbe fare, l'avventabilità, aggiunta, aggiunta posizione, no, posso aggiungere, anche la posizione, non ci credo, ecco, lei posso, andiamo un poco, bellissimo, sa cosa, che posso anche, aggiungere la collezione, bellissimo, davvero, cioè, vedete, questa cosa, è totalmente differente, cioè, non è cosa, che ci si tratta, in fc o fifa, nel gioco di esports, ma, la rende più, divertenti, tanto, Gian Piero Gasperini, con la sua, Ghidorah Magico, ho, andrò, semmo nella squadra, con qualche, un giocatore, e, andiamo a provarci, questo, fc24, ragazzi, sono davvero curioso, ok, ci abbiamo fatto, a Chelsea contro Arsenal, bene, il debito di Londra, uno dei tanti debiti di Londra, eh, lo voglio, possedere una squadra, ho 145, 6 con, 140, sì, divisa casa, c'è anche il trazzo, il 66, lo mettiamo, divisa di casa, perché, siamo blu, perfetti, lupo, rosso, bianco, ma sono giallo, la formazione, la fai fare? Ok, semmo nel gioco, allora, abbiamo Roberto Sanchez, Conwill, D'A.C., Marco Curella, e Rice James, poi Makai Seddo, Desmuhol, Etovernaggio, Fese, Jackson, e Colpano, una bella squadretta, mentre, ci ricordassi, le squadre del CS, che non ti ho comprato, non si riesce più, chi si è, chi non ci sia, lui sa che è un po' lento difensante, quindi lasciamo la stab, ad uscire, c'è un cucù, c'è Cachadei, semmo questa squadra migliore, eh sì, proviamo così, di giocare va, proviamo a giocarcela così, al match, ci siamo, la squadra ci sarà, a Chelsea, ci sarà a vincere, oh beh, tanto dentro i nostri, solo ancora devono entrare, e passiamo così, siamo pronti, siamo con le esperienze, picchi, negli esploratori, tempo io, vivo, davvero ragazzi, mi pare che questo, è che ci stiamo mandando, tantissimi giocatori, dico che sia un, mollusso di marketing, per cercare di avere, giocatori anche, presi a poco prezzo, e spero che tra questi, ci sia un talento, da vendere a tanto, ci vuole entrare spese, con uno, due, vendite, di livello, però, per me, c'è non è, una società, di, c'è una società, che tu vendi, oggetti, di metti lì, sono giocatori, devono giocare questi, anche le mani in prestito, però, tanto che bello, Fabio Caressa, mi è mancato, Fabio Caressa, ma c'è la, c'è la, i football, ci, sognare che questa, possa essere la loro, vediamo dopo, continuiamo un po', un po', un po' lenta, anche nel girarsi, beh ci sta, questo è un po' di realismo, speriamo di assistere, a una partita di linea, di questo, daca, la coppurella, vado lì, Jackson, guarda, lì, è un po' di realismo, ma la precisione, lascia davvero a desiderare, ottima discesa sulla destra, sbaglia il passaggio, guarda, tutta l'altra parte, guarda, lì, col palmer, guarda, lì, è il buon Enzo, che è promettivo, da quella posizione, un palo, il palo che spinge, riceve un palo interessante, gioco una po', guarda, guarda, si corra, ok, si assicura, si assicura, si assicura, si assicura, ma non c'è, non c'è il fulbo, con la patch, per avere, il, il, diciamo, e, la telecomunica, con gli sky, se ce l'avevo in quel periodo, scrivete sotto nei commenti, un bel periodo, ripartono all'attacco, direttamente dalla propria area, ad attaccare così, si rischia sempre, da col, vado, bellissima, la parte di Fennance, che ancora una volta lui, è in sole, lo disse fermato, che bella che, avrei rallentato, per entrare, non c'è lì, da tirare, va bene, allora, tattiche, e, no, sì, subito, le botte, non c'è senso, che è sedo, di testa non c'è, e tira, hole, there was, hole, dove can't rise, vuole partire con la palla, Fennance, fermato da Conwell, bellissimo, con, oh, oh, la tricca, la tricca, palla mia, regola mia, Palmer, Corey James, Corey James, con lo cross, c'è, Kale Jackson, non c'è sta, ma c'è il tiro di, uh, che gol, questo è tutti i fan, senti qua, sentilo, non vi sento, il tizio che, non so il nome, Debsbury Hall, Debsbury Hall, il biondino, per noi, the blonde man, che botte tremenda, qui, vado a tirare di prima, boom, va via la portiera, 1-0 per noi, ragazzi, oh, è già un stile, che gioco, mi diverti di più, dell'FC 24, l'FC 24, ho tirato le ultime volte, ho tirato la regola, io e mi sto, annoiando, annoiando, ragazzi, a volte, io, non ci gioco, simulo, per avere l'indicap, di essere in svantaggio, va, Joe Felix, con i numeri, sempre, ho l'attore del gol, guarda ancora Felix, uh, ma ancora Felix, Felix Felicis, col, col Palmer, col Palmer, Prima il tiro da lì, col Mancino, uh, lui è Mancino, attenzione, mi ricordo, d'accelo, che sia un Mancino, cioè, come il gioco, è un po', meno frenetico, una cosa che, a questo tipo, rispetto, all'FC, e soprattutto, c'è, è un po' più realistico, non, non è, attenzione, con il destro, con il destro, pallo, e amo il show, però, ah, fallo dopo il tiro, non c'è il vantaggio, anche lui, attirato, non c'è il vantaggio, è bruttissimo a fallo, non c'è il vantaggio, non c'è il vantaggio, chi ce li porta, lui, chi ce li porta, altrimenti si mette malissimo, nessuno, se può me Mancino, ma me Mancino, ok, vai Palmer, uh, pazzissima, vai Enzo, vai Enzo, con la forza, senza una forza del cuore, uuuuh, vado a che mi manda il baretto, io ci provo un'altra volta, ma lo fermiamo, no, vai Enzo, no, chi è questo party, la portiera, bellissimo, Sanze che fa così, che è questo Sanze, il porterino, che conosco, troppo lento, troppo lento, con James, con Will, lo ferma, e lo ferma, bucaio Saga, sono stato sbagliato, fallo volare, fallo correre, fallo correre a Palmer, calafiori, messo Tetzino, bellissimo, e la notte in realtà, peccato, la più di centrale, era meglio, che Terzino, sinceramente, uuuuh, bravo, guardalo, oh, non so che fare, troppo poco spazio, lì tutti insieme, uuuuh, mi ha fermato, bucaio Saga, la difesa, invalicabile oggi, James, una serie di passaggi puliti, efficaci, guarda come si muove il pallone, no, c'è anche il giro palla, è un po' più pesante, ma è così che deve essere, cioè, la palla non è che, è una cosa che vola, così che scivola sul campo, a volte anche un po' di, l'esistenza da parte del campo, l'erba, magari, un po' più lungo, può, ralentare un po' il pallone, va, un po' curella, va che lo fermiamo, va che rubiamo il pallone, eeeh, oioioioi, gioca bene qui, ma che è il contrasto regolare, la palla gli ho preso, scusami, fammi vedere, col tacco pesa la palla con Will, dai, con Will ha fatto il suo lavoro, le play è un poco, schifoso, la vita, non è così chiave, che deve stare sul piede, non sul fluo, deve fare le teste, e basta, è tua, buttala via, buttala via Enzo, ora, non è fallo, no, Enzo, dove falli, questo lì, e qui ci poteva stare anche l'ammunizione, l'arbitro, ah Pippo, che se non fai così, eh, mi raccomando, con De Carri, adesso che tu posso andare, sembra, no, Odegaard, Uja, vai vai, no, mi sono tenuti lì, ha fatto un'incredibile, o te è qui, veramente, ma che fa, e l'Arsenal torna in partita, prima un tiro, come suonare il gol, adesso va, io trovo che tiro, palo, un po' di genio, ci ricorderemo questo pollo a lungo, un bel gol, ma, tecnicamente perfetto, non c'è che dire, poteri dai, non è cosa angolata, che passavo io, ma a portiere dai, non puoi non prendere il polone lì, si riparte, di nuovo in parità, l'esito di questa gara, secondo me, sarà in birico fino alla fine, a nessuna delle tue formazioni, manca il talento, e la qualità per vincere, Jackson, cerca aiuto nella zona laterale, dai, dai, vediamo anche lo stop di difensore, che è un po', possono fare errori, questo è anche un po' che manca, in FC, ogni stop di difensore, veramente perfetto, anche qui, guardate, come sbaglia Enzo, mi va a far arrabbiare, ma, ci sta che possa sbagliare, uno stop, va, ma tutti i fatti, mi staccano i poteri, dai, mi trovo, pure giallo, ma ogni cosa, pallo mi chiamo ora, ma ho preso il pallone netto, cioè, qua, ho preso il pallone, ma stai a scherzare, qua, ecco, la prima volta la vado a fare, occhio che ti voglio segnalarci, contro il buono, il portiere cerca di richiamare i suoi, devono stare attenti, non possono permettersi un altro gol da lì, ha provato il tiro forte, ma non ha trovato lo specchio della porta, tutta via, butta via, mi ha subito un attacco, mamma mia, che cosa terribile, mamma mia, adesso dai camo, che la presto della non aiuta, e, il primo cerchio, non tanto, fa un cosa terribile, ma migliore è stata la reazione del portiere, e lui potrebbe poter fare la caracolata, si fa perdonare, parti, dai, forse più pallone, dai, troppo tempo, davvero, veloce, veloce, devo partire, tu in avanti, no, queste cose che sono realistiche, l'errore del difensore, c'è una pista, sia mio, o dell'avversario, è una cosa reale, che, fanno, alcune volte, dei stupi perfetti, comunque, per il primo primo tempo, la Fiori, che è bellissima, è lì, con i capelli, un po' così, fermi, non è che avversare, sui recchi di lacca, comunque, devo dire, mi trovo meglio qui, perché sono, inizialmente, gioco sempre colmo, beh, io non c'è, quindi, ho fatto PES, per molti anni, in fin, per cicli, fa 08, fu il periodo di file, che ha provato, e poi, andare più verso FIFA, praticamente, PES, cioè, più negli anni, si è proprio peggiorato, guarderò, 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 dai, sta vencendo molto bene, quello, no, 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 che è brutto e venti, ho diventato sbagliato, e con il secondo incivato, ha fatto, qui ho sbagliato, qui proprio un errore, gravissimo, perché poi lascio da lì, prima di ottenere, il primo gol di questo, perché ti nascono dietro l'uomo, amico mio, Jackson, perché, guarderò, guarderò, e c'è il 2 a 2, subito, personale, soltanto personale, ringraziamo tutti, mamma mia, Jackson, ammazza, come se il colt subito, si spolta Jackson, cioè, si è assai che non vedo la prima, spesso, mi sono andato più, questo seriale, in questi, comunque, 2 a 2, vedete che abbiamo ripreso subito, non male, siamo col sicuro in difesa, ci riesce assolutamente, si è sempre chiuso lì, non c'è più niente, non è Jackson, un po' ti, no, vabbè, questo è il rigore, è il rigore, c'è la penalità massima, come sempre in questi casi, ha fatto il fallo netto, da qui, boom, sulla gamba, a meno, si può aver evitato il rigore, su FFC, c'è il rischio di rigore, non lo dava, e adesso, ci vogliono soprattutto, spalle larghe, è un momento fondamentale, può essere il gol del vantaggio, uuuuh, la piazza lì, è il 3 a 2, sul rigore di Col Palmer, sa ballare Col Palmer, benissimo, ottimo, il rigore, dovrei dire anche, migliore di questo, di differci là, se lascia la levetta prima, non mi scelto, mi scelto qui, lascia la levetta prima, ma la palletta rimasta lì andare, dopo il proprio tiro, la direzione è quella, appunto, non cambia, quindi a questo è una cosa molto buona, dovrei dire, mi c'è lì, lo tenere premuto, un'involta, non è eccezionato, occhio che qui, Odega può segnirci ancora, metto l'endito qua, eh, questo Odega è forte, mi sta a tirare, no, 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 Giuseburi Hall, oh, terribile, mi sono lungato troppo, con Giuseburi Hall, eh sì, ma ci sta, vadelo, vadelo, quella palla, quella ha chiesto bene saliva, ha fatto scattore, ha fatto saliva, oh, e va bene, scomalissimo, è un difensore, bravo, mamma mia, ecco, i portieri almeno, cioè, la muenza di portieri è realistica, per dirlo, lo vedrò più volte, che mi sembra molto più realistico, questo gioco, di Stato FC, ma è così, perché, su FC, ora non lo sappiamo qui tanto, ma su FC, molto gioco si spostano, a me fa una rabbia, come un portiere, e lì, si spostano per far segnare, c'è una cosa vergognosa, non dobbiamo fare i cambi, allora, per esempio, mi sembra Stato, quindi, mettiamo a sinistra, che è veloce, veloce, Sancho, vorrebbe essere veloce, Sancho, anche il buon call bummer, non ce la fa più, su, mettiamoci, per di Toneto, un attacco di Jackson, ci vuole stare, non ho un po', per più oltre, è Enzo Stato, posso mettere, mi piace così di più, ok, ancora lui, sta in pausa, è già finito, ovviamente non riesco più, oh, metto tutto in attacco, siccome, amico, che fa? perché qui non c'è il quit, forse, non puoi quitare, penso, è bellissimo, come fare un po', fisicamente in gioco, avendo fatto così, nel senso, ecco, quello che quando, è la barra, la bocca di camere, non la sua città, ma insomma, ecco, così, ora, cambiate, oh, a me come è finito, io ho tant'acqua, mamma, non c'è un po' di essere, ah, c'è il quit, ok, quanti cambi te farò, ok, posso ce lo facciamo? vai cucurella, è come tu scappa, ti piaceva? guardalo, no, ma è che ti stisci a po' di fermi, amico mio, e forse questo è il momento di cambiare qualcosa, che ne dici Luca? no, Maga, Maga, Maga Ianes, toccante Maga Ianes, se fa un programma me ne vado, e va bene, è stato con Avers, ma, è esattamente questo l'approccio che devono adottare, se vogliono provare a riaprire la partita, ormai non hanno altra scelta, devono solo attaccare, guardalo, guardo, bellissimo, all, provo a tiro da lì, col mancino, troppo forte, devo provare a tirare, è stata una questione di centimetri, centimetri, siamo un po' proprio pochi, vai passa il golaggio, passa, guarda, sono qui per te, eeeh, calafiori, sacca, capire, mi ha giocato così, in menta, ti, non si fa a cambiare giocatore, poteva servire a qualche compagno, in quell'occasione, forse ha tenuto pallo, guarda che è bella la palla, il peperonetto, che supera il netto saliva, lo superano, no, penso che andava a parlare sul mio attaccante, comunque, il trovato di Chelsea, Jackson, 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 o l'esterno, perché era bella l'idea, party, ah, mi direi quello, grazie, grande, chiusura, non lì, non a lui, eh, vabbè, mi ha fatto, non posso prendere neanche qua, Rato, che mi ha fatto, mi ha fatto, mi ha fatto, tirare, ho provato a metterla al centro, ma con scarsi i risultati, sono stati forse un po' superficiali, guarda che bello, scambio con il peperonetto, corri, corri, corri ancora, corri ancora, vai per Rito, vai per Rito, resta, col mancino, c'è il Jackson, c'è il gol, e il 4 a 2, la chi non mi sa qui, l'ottantesimo, ok, sto ringraziando, boom baby, shakalaka, 4 a 2, non potevo sbagliare, sarà il mio potere dell'Arsen, ma this is the life, this is the main world, Chelsea B4, Arsenal 2, molto bene, muy, muy bien, però che non sbira il gol, ora, se no, eccola, eccola, prima di fare con la X, ecco, la X, posso anche, marcarlo, diciamo una volta, con FIFA, quindi, non fai con questo, se guardo che, ci sbilanci un po', e si apprestano a battere, nostra, bravissimo, tutta, vai James, vai James, tutta James, tutta James, parti James, non ci va a partire, non ci vuole davvero niente, per ribaltare una situazione, attenzione, c'è il gol, un regalo maledetto, era quello, l'inquito, la passione, di voler provare, è sembra che qui, non perde pallone, allarga tutto, allarga tutto, di stacco si riduce, ora devono rimanere concentrati, e cogliere le occasioni, che si presenteranno, no, bravo, cucurella, no, no, a lui, e non in quel modo, no, 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 braviss, butta tutto, butta via, 12 pallone, bravissimo, un cucù, e non è fallo, bravo un cucù, Jackson, Jackson, la te lì, bravissimo, però, se non il pallone è stanco, era stanco, è stato ben guai, va a partire tutto il Larsen, allora, fagli il fallo, fagli il fallo, fagli il fallo, occhio a Kayaverse, grande cucurella, questo non è un fallo, dai, su, ma non mi fai distrare, butta via, butta via, butta via tutto, laga tutto, laga tutto, no, era bellissimo, perdonato, mamma mia, pochissimo, ha preso due sicurezza, questo ragazzo, alla fine, ma, la via lontano, anzi, facciamo un po' di tempo, facciamo magari un po' di nebosia, facciamo qualche cambio, che qui abbiamo, oh, my, gosh, la via, non posso fare più cambi, penso di no, penso, e non posso più, ma, 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 mi sono tutti stanchi, oh, mi sono tutti stanchi, poi c'è una campione, mi sono di più, coloro di più loro, lunga Jackson, lunga Jackson, bravissimo, Jackson, di pelli, Sancho, lasciati ben White, bravo, e Cucurella, Cucurella, Sancho, no Sancho, beh, finita qui ragazzi, c'è qui, 4 a 3, c'è un po' di rischiato, e Caspi mi batte da mia granero, yeah, yeah, sì, io ho il capo di Nicholas Jackson, ovviamente, con il 3, e mezzo, e the Debs Wee Hall, o Ernst Jameson, è malissimo Jameson, in effetti, molto male, ok, compito minato livello 3, livello 4, livello 4, livello 5, è molto on top, ok, 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 to' completato, mi dico che è un primo interessante, non so, cosa di carino, allora ragazzi, però, non lo so finire qui, questo, proprio perché, già la basiera bassa, posso dire che, i football, c'è ancora un po' da migliorare, qualche cosina, sul gameplay, però, è molto più realistico, simulativo questo, rispetto a FC, ma FC è preso un, uno slancio, verso il, il gioco gioco, più che gioco, calcistico, perché alla fine, si vede tutti, mille gol a partita, qui poi ho fatto tantissimi, come, perché c'era anche errore, i personali, dei giocatori, e io, è davvero un gioco, mi ha fatto moltissimi errori, però, se mi dai, vuoi tempo, ci prendo un po' di mano, e, altra cosa, altra cosa, allora, ho altri accordi a bui, scusate, ho un beletto di tasso, ho altri accordi a bui, con, il, Bayern, questo mi piace, possiamo prendere qualche giocatore in più, magari, Kane, o qualche difensore, che ci serve, un universo centro di effetti, anche un testino, che c'è su Mazzarui, di buono, altri non ne abbiamo, e, quindi, proviamo a prendere qualche giocatore buono, mi sembra che abbiamo, due contatti, scuri, cioè, a buio, scusi, si, dimmi, un giocatore, ok, una sola volta, e, io direi, che, a questo punto, Upamecano, da, ciò che io, non abbiamo Upamecano, anche se fosse anche, con Esca, non se ne va, ma non Kane, abbiamo già, molti attaccanti, siamo nel super, lì va, i sei, e il due, è lui, è lui, il nostro Upamecano, dimensore centrale, è velocissima, di conoscere questo, che è molto buono, e, perché, è molto reattivo, veloce, abile, vedete, ecco, il sito è andata 4, è stato andata 4, la città è andata 85, vedete, almeno, è realissimo, è andata 85, su FIFA, se non è andata, la FC, come si chiama, già non mi sembra, sia un 87, 90, cioè, mi pensavo che arriva al 99, c'è, il 95, è un po' più realissimo, e, questo giocatore, cambia, continuando avanti, non posso fare altro, e, con Upamecano, ragazzi, il colpo che non ti aspetti, vorremmo, un momento di pieno, è questo, questo, video di oggi, deve essere troppo lungo, ho detto già, quello che ho detto sul gioco, molto più realissimo, di FC, vorrei tanto, che ci fosse, qualcosa di interessante, come Camino Master, che se c'è Camino Master qui, io, se posso dire anche, veramente, lo prenderei, ciao, FC 25, mi faccio Camino Master, qui sui football, sinceramente, preferirei, molto meglio, ho fatto la carriera, con l'Inta, sui football, nel 2021, 22, mi vedo adesso, l'anno deciso, mi divertì parecchio, soffrì tanto, perché la squadra, perché il gioco, era molto, differenza da FIFA, ma, per il resto, cioè, mi sono divertito, e, sinceramente, dopo questi anni, gli ultimi, di FC, di FIFA 23, FIFA 22, esempio, cioè, dal 19 in poi, mi sono sempre lo stesso, andando anche a peggiorarsi, più veloce, più veloce, ma anche nei contratti, lì, c'è molto più, in realismo, cioè, lì, proprio, tu, i tuoi li devi svendere, per fare quei soldi, gli altri, devi pagare, cifre astronomiche, cosa, non è un gioco, sinceramente, che sta puntando, a resi, ma sta puntando più, a essa, appunto, un gioco, appunto, a parte questo, però, devo dire che, ah, quello c'è il busto, esaminiamo un poco, per capire la carta, voglio aprire una cosa, che questo, ecco, ecco, tecnica, busto, la tecna, effetto più 2, attivo, perdonatevi, che ho fatto il nostro, comunque, sicuramente, anche questo, sono delle modifiche, piccole cose, che ti rendono il gioco, cioè, è come se sono, quelle medaglie, le medaglie di abilità, su FC, li chiamano busto, ok, ma, non sono tanti, non sollevissibili, e anche il valore, di un giocatore, come Messi, che è 90, ci vedo qui, a 91, 90, di, di, di 90, poi c'è 89, c'è 85, velocità 70, ovviamente l'età è quello che è, ma, se questo è nessuno, diciamo appunto, un toti, mettiamo così, già, la velocità, può essere 400, invece, anche se è 90, e poi, è sempre messo di 400, arrivarebbe su 80, cioè, anche questo, è un senso di realismo, lì, ogni giocatore, è 90, cioè, anche il giocatore, è 90, 92, 93, 95, lì, appunto, vai a perdere quello che è, un po', col minimo del realismo, del gioco in sé, e questo, lo ripeterò spesso, però, davvero, preparisco un football, come gioco, più calmo, più ragionato, e abbiamo visto anche serie fatte sui vecchi FIFA, in cui, appunto, c'è questa possibilità di ragionare, di passarla, giropalla, tranquillo, cercare lo spazio, non più una certa frenesia, e molto apprezziamo questa cosa, come apprezzo anche io, che non c'è una certa frenesia, del gioco, è, è tanta roba questa, sembra niente, ma in realtà è molto, qui c'è, c'è con le carte, comand, non è che è anche bella carta che c'è chi se lei comanda, e, non hanno i diritti, pensate se sono i diritti, cosa dovrebbero fare, come se non c'è i diritti, proprio con il, con il, il West Ham, no, e, erano un peccato, ma insomma, è veramente, anche l'oro, c'è qui, guarda che bella il cieco, guarda che bella il cieco, 50 monete, soppure anche le monete, sicuramente questo gioco, i football, è un, un vero simboteo di calcio, per concludere, mentre FCE, ho andato, ho andato un gioco, la Fortnite, per dire che appunto, è un gioco, non c'è del realismo, c'è solo, corsi esterni, giocatori, mille, scuole che si aprono difensivamente, è una cosa che davvero, è la cosa peggiore di questo gioco, anche quando tu giochi, contro la scuola che si apre, che è meno possibile, rispetto a che succeda a 9, con una squadra, l'800 delle volte, la difesa si apre, anzi, non sono anche 90 del 100, addirittura, mentre con la CPU, si apre il 5 del 100, cioè quando gioco contro la CPU, la difesa si apre un po' meno, ma poi si apre, ed è, non ha alcun senso, non ha alcun senso, questa cosa, mi dispiace solo, che realmente non ci sia la possibilità, di provare a avere, una CPU do Master, non so, fare una petizione, tutti i giocatori europei, dire che, per esempio, noi più europei, vogliamo avere una, che cosa c'è qui, il libro è nell'area blu, in che senso, che segno, c'è anche, anche queste cose, che fingo tu, la tua scuola per allenarti, la cosa che non c'è su FIFA, non c'è, e ti dà anche dei premi, ti dà anche dei premi, fare queste cose, cioè, vedete come il gioco, è molto più, anche, ti premia, non è un gioco d'azzardo, perché, è peccato, in cui la vittoria, è un gioco d'azzardo, è bassissima, cioè, è un reale gioco d'azzardo, in cui vince, è così impossibile, mentre qui, è ancora un gioco, si appremi, ma ti premia, ogni cosa che fai, cioè, vedete queste cose, come fanno tanto, io qui, posso avere anche, un'examen hardhold, monete, cioè, guardate qui, guardate, quando terminate il gioco 5, il livello 4, c'è molta monete di football, c'è tanta roba, tantissima, questo fa la differenza, tra un gioco, e, di, e, un gioco che va appunto, cercare di farti solo soldi, e un gioco che mi ci vuole farti divertire, fa soldi, che non vuoi fare soldi, ovviamente non è che sono così, ben amine, pubblico, non so se ero, eroici, ma se mi dicono, ti fanno un po' meno, mentre fai molto più gioco d'azzardo, molto più pagare per vincere, e molto pay to win, cioè, qui, anche appunto, fatto dalla squadra, deve avere tanto per fare la squadra, come dice il gioco, cioè, questo fa, comunque ragazzi, come ho detto, finiamo qui, questo è il risultato di esplorativo, di eFootball 25, l'anno messo di eFootball di quest'anno, io spero che vi sia piaciuto, in caso vi lascia un like, a commentare, e di la vostra, in caso avete fatto iscrivete al canale, attive campanhe, le notifiche, le notifiche, le notifiche, le notifiche che usciranno, seguite su vari social, come Facebook, Discord, Instagram, e TikTok, così per sapere di più sul lavoro, potete darti i contenuti, motivi ai miei offerti, e partecipiamo in attivo, avete il canale, su Viteil Vantaggio, a cui bergemo oggi, i video vedete in TV, ma che siete di cadere abbonate, e quant'altro, c'è anche possibilità di abbonarsi, da Twitch, con Twitch Prime, per seguirmi, e comunque supportare il mio lavoro, ovviamente con dei benefici differenti, ma in base a voi, potete sapere voi, avete lì, la possibilità di scegliere, come supportare il mio lavoro, noi ci vediamo in un prossimo, episodio, forse di Pest, di Football, chi lo sa, io ancora lo chiamo Pest, ma non faccio niente, dal vostro mitterri, passo, e chiudo. Sous-titrage ST' 501